cara i biamici allora un video conclusivo di questa lunga intensa e piacevolissima giornata trascorsa con ps4 pro e il televisore 4k hdr redazionale mentre con console abbiamo visto diversi giochi insieme li abbiamo commentati abbiamo provato a forzare l'uscita della console a 1080p per vedere le differenze con il 4k o comunque le risoluzioni più alte di 1080p che ps4 pro permette agli sviluppatori abbiamo fatto delle prove con o senza hdr con i giochi mentre mattia nel frattempo con un'altra ps4 pro sta facendo delle prove per i giochi in playstation vr per vedere anche lì quali sono i vantaggi tutti argomenti di cui parleremo nei prossimi giorni approfonditamente anche in modo separato il gioco per gioco dedicheremo un articolo a tutti i giochi che supportano ps4 pro e li analizzeremo nel dettaglio e dentro quali sono i vantaggi con la nuova console con un televisore 4k con un televisore 1080p con o senza hdr perché non dimentichiamoci c'è anche chi ha in casa un televisore 4k senza hdr è una cosa che magari noi tendiamo a sottovalutare però in questi mesi in questo periodo di passaggio dal 1080p al 4k che si concretizzerà secondo me nei prossimi due o tre anni anche di più per i videogiocatori probabilmente nei prossimi due o tre anni tre o quattro anni comunque c'è anche chi ha un televisore 4k senza hdr noi comunque cercheremo di analizzare anche questo questo tipo di cose non tutti i giochi abbiamo provato tra l'altro supportano la hdr ecco questa per esempio è una cosa di cui abbiamo cominciato a renderci conto nei mesi successivi all'annuncio di ps4 pro avvenuto lo scorso 7 settembre io davo per scontato che è una volta che si sblocca la possibilità di avere l' hdr sulla console sui televisori tutti i giochi in automatico hdr non è così molti sviluppatori ce l'avevano già detto nelle scorse settimane è capitato con rise of the tomb raider in una mia vecchia anteprima avevo segnalato questa cosa come una roba per me stranissima invece no alla fine è vero così rise of the tomb raider il gioco che peraltro ha più opzioni di tutti modalità 4k modalità 1080p con grafica arricchita modalità 1080p con frame rate libero non non supporta l'hdr non non lo farà neanche stip non lo fanno titan fall 2 battlefield one non non lo fanno diversi giochi che però supportano altre non lo fa all'ombra di mordor per esempio tanti giochi che però supportano altre caratteristiche di ps4 pro è stata una giornata come dicevo intensa e piacevolissima che da cui secondo me emerge una cosa molto interessante questo è un inedito nel mondo delle console al di là del fatto che è la prima volta che viene lanciata sul mercato una console cosiddetta di mezza generazione cioè non una vera e propria nuova console una console che segna una nuova generazione con uno stacco netto col passato ma una console che è una versione diversa della stessa console che già esiste ps4 in questo caso che fa funzionare gli stessi giochi nei negozi ci sarà la confezione del gioco ps4 per ps4 pro uguale a ps quello di ps4 standard ps4 slim che c'è adesso e quindi l'impatto è un qualcosa di inedito noi ormai siamo abituati da anni a di con noi nel senso di noi di e ne italia ma anche noi noi e voi noi appassionati di videogiochi siamo abituati da anni a portare a casa nuove console di tanto in tanto lo facciamo sempre con estremo piacere e quella sensazione di portare a casa la nuova console si spalma su diverse sfaccettature su diversi rami di interesse una interfaccia completamente nuova tutta da scoprire un giochi nuovi che non hai potuto provare sulle console precedenti necessariamente magari anche lo stesso gioco però rifatto per la nuova console così tutto questo è completamente diverso con ps4 pro ps4 pro è una ps 4 fondamentalmente con delle caratteristiche in più atte a sfruttare in particolare uno strumento nuovo che può esserci nelle nostre case come un nuovo televisore con risoluzione più alta 4k e con una tecnologia diversa per la resa del colore come l'hdr oppure anche a migliorare le prestazioni con anche i vecchi televisori con i televisori 1080p una roba veramente inedita non abbiamo avuto la ps3 pro non abbiamo avuto l'xbox 360 pro mentre avremo invece scorpio quindi questa idea delle nuove console non è solo di di sony è un qualcosa che sta prendendo piede in generale nel mondo delle delle console per almeno delle console diciamo più da videogioco classico poi nintendo come al solito ci presenta cose alternative tra l'altro in questa in questa generazione anche molto interessante secondo me come switch va bene comunque stiamo divagando solo per dire che è stata una prima giornata con una nuova console diversa da tutte le altre precedenti è stato più una ricerca del dettaglio una ricerca della piccola differenza che è qualcosa di molto interessante che al contempo mi fa confermare le cose comunque già dette in questi giorni anche abbondantemente e cioè che non è un ps4 pro una console assolutamente necessaria nessun niente è necessario però se uno è videogiocatore chiaramente a ps3 esce ps4 quel passaggio è ovviamente necessario magari non immediatamente però prima o poi un passaggio da fare ps4 pro non è detto magari è un qualcosa di indispensabile secondo me se uno deve comprare una ps4 oggi e ha un televisore 4k ho scritto un articolo proprio in questi giorni su IGN Italia su a chi serve cosa e tutte quelle quelle idee dopo un'intensa giornata di prova eccetera comunque tenderei a confermarle se avete un televisore 4k hdr e dovete prendere ancora una ps4 non ce l'avete non c'è alcun dubbio che i 100 euro in più di ps4 pro rispetto a ps4 standard sono benedetti cioè lo sfruttamento del televisore è totale sia per le risoluzioni più alte sia per l'hdr se avete un televisore 1080p comunque di base la notizia figa è che praticamente tutti i giochi per ps4 pro in un modo o nell'altro offriranno dei vantaggi anche su 1080p il vantaggio minimo possibile è il super sampling ovvero il fatto che girando il gioco a risoluzioni più alte pensate per i televisori 4k anche su 1080p i benefici di queste risoluzioni più alte ci sono in qualche modo si trasformano nel cosiddetto super sampling che era scritto anche in italiano nella descrizione dell'ombra di mordor ma non mi ricordo più un termine figo che secondo me potremmo utilizzare in italiano comunque significa una risoluzione di rendering più alta della console in uscita che poi si abbassa chiaramente per impattare con quella giusta del televisore che è 1080p in questo passaggio al ribasso comunque dei dettagli in più rimangono in generale c'è un migliore effetto di anti aliasing infatti il super sampling è uno dei migliori metodi per ottenere l'anti aliasing solo che è troppo dispendioso ma nel caso di ps4 pro in cui lo fai per forza perché hai una risoluzione più alta pensata per il 4k te lo trovi gratis praticamente e quindi di base ci sono dei vantaggi anche per il 1080p va bene come vedete c'è tanto da chiacchierare questo video voleva essere vi giuro più breve solo per riassumere un po' questa questa prima giornata sono molto soddisfatto devo dire proprio dell'aver scoperto questa differenza con i day one delle console precedenti dove c'era tutto da scoprire interfaccia eccetera qui hai la stessa interfaccia ecco l'interfaccia è proprio l'esempio fantastico per questa cosa è la stessa identica interfaccia di ps4 standard renderizzata in 4k è questo tipo di differenza di dettagli proprio che fa piacere adesso andare a controllare nei prossimi giorni eccetera quindi avremo un articolo simil recensione dico simil recensione perché noi siamo fondamentalmente già sempre in costante difficoltà a recensire i giochi che cambiano nel tempo figuriamoci dare un giudizio definitivo su una console dopo pochi giorni non ha senso quindi diciamo sì chiamiamola anche recensione però insomma è più che altro un articolo ecco di presentazione delle potenzialità della console quello che andremo a leggere nei prossimi giorni accompagnato come dicevo da tanti articoli di analisi dettagliata dei vari giochi che supportano la nuova console e tante chiacchiere nei prossimi mesi anni non vedo l'ora di provare i giochi sviluppati con già in mente durante le fasi di sviluppo poi il fatto che debbano poi girare su ps4 pro come horizon zero dawn come days gone come ecco non se ne è parlato in questi giorni e non si è vista ancora ma pensate a god of war 4 quando quando arriverà ecco quello sarà interessante da vedere la le differenze di dettaglio tra ps4 standard e ps4 pro insomma buon inizio di mezza generazione a tutti e ci vediamo per gli approfondimenti sulle pagine di IGN Italia Caraibi